Pieno! Civillo! Ma no, se... serio ce ne avevano? C'è quella delba, teoricamente, che sarebbe... Ma secondo te? Non so, chiede... Ho fatto casino! Che è successo? Sai che... Eh, guarda la tasti! Sto continuando a sbagliare i tasti! La top lane la perderò presto! Ma... l'hai presa a te, Carmo? Sì! Ah, ok... Ho già rotto il cazzo! No! 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 Sto mirando perchè pensavo che... Dopo che gliel'hai fatta una volta, sei minimamente intelligente e non ci rientro una seconda volta. Ma che abbronze la prassi, però? Eh, a curo. Ah, mi hanno fatto troppo l'hanno. No, ti tira dove gli cadono le asce. Eh, lo stavo facendo. È evita easy. Può prendere l'accetto o si prende la cuo? Questa è una battaglia che non puoi vincere. Sì, io vedo il mercurio. Bravo, Gione. Ma borgodio! Mi riesco a prendere una volta. Mi riesco a prendere una battaglia. Mi riesco a prendere una battaglia. Questa merda! Mi riesco a prendere una battaglia. Mi riesco a prendere una battaglia. Eh, le cose sono giusto. Sto liando? No. Perché l'ha scildato. No. Vieni avanti anche te, comunque. Vado avanti anche io. Altrimenti non si fa pressione. Ok. Perché semplicemente focussano me. No, ho sbagliato. No, scusami. No, scusami. Se ganky bot, Davide e Draven è scoperto. Ho capito. Ha ancora il flash, però. Ci si può provare a fare qualcosa. Non ci credo. No, puttana maledetta. Puttana maledetta. Mi sei costata un flash. Se sei venuta verso di me, ti avrei curato senza flashare. Sono un miserabile a massimo di un pixie. Non proprio benissimo. Non proprio benissimo. Non ho dovuto usare tutte e due le mastery per una kill. E la torta è finita. E la torta è finita. Scusa, amore, se ti dico un difetto che hai sempre, ovvero quello di scappare dalle cure, scura. Ok, va bene. Qui c'è un notizio. Sì, con Soraka scappi. Non è vero, però... No, quando ti supporto con Soraka non vai mai verso Soraka. Mi sono dita il culo, posso dirlo? Mamma mia. Sì, lo so. Sì, lo so. No, ma da te lascio morire. Sì, vedi, vedi, prima o meno. Oh. Por inizia. Por inizia. Che li vai addosso? No. No, no, no. No, no. No, no. AIA! Ma io non ci guardo. No, no, basta un'altra. No, basta un'altra. è stato un bruttissimo trade sono super potente via quel lao e pure vuolo no amore scusa chi si lamenta? è morto e va bene, è un assist in più e la prossima volta puoi fare un anche top bot Davide? la linea è molto molto push 19 secondi o la cura? ma dai ah infame bastardo sì, 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 400 di ping e ora no, no, sei lì dentro sei lì dentro è probabile che mi dai fino quasi no mi invece fai cagare no, aspetta stai pensando 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 no, 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 no io non ingaggio il cazzo ok oh pah ma adesso qui c'è una pin ma adesso ho soltanto piccole farm ma adesso ma si, da andare a prendere hai una Q su di lei? voilà eh no, 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 no è una partita si tirata quanto lo dicevo io è vero mi hai avuto 3 secondi per tirare ma il siren Non cazzo, non cazzo! Non cazzo, non cazzo! Non cazzo! Non cazzo! Non cazzo! Ma chi? Mi sparava! Mi tirava la c**a! Mi costava quattro volte! Non cazzo! Non cazzo! Non cazzo! Tonia, che cazzo stai facendo? Con la c**a! Quella non cazzo! Adesso... non è più killabile! Adesso bisogna stare ad aspettare! Ehm... La lanna è maggiore! Vuoi gank o vuoi andare da solo? C'ha pure uno shield... Non cazzo! Alla non esistenza! Non cazzo! Non cazzo! Ma porco dio! Eeeh... Ehm... Ehm... Quella non sta evocando... C***o merda! Ehm... 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 No ragazzi, no no ulti non ho vittano non cazzo Perchè non lasciate queste kille qui? Passiva segreta Passiva segreta Niente Madonna quella oe, quella oe che due coglioni ti prende anche se non sei dentro No aspetta dai Dove sto? Perché? Perché? Perché ragazzi? No No Non neanche io No ok, è qua dentro Sto aspettando che vengo avanti Ma non Anche Il fatto che tu sai che li ce le si non è che devi andarci in bocca Non ci sono andata in bocca No sei andata solo fino a qua dove ti ha attaccato lui tranquillamente E poi è arrivato Ti ha attaccato lui Lui ti ha attaccato Perchè gli sei andata in bocca E vabbè un pal di pazzi Non Non l'ho capita questa Si stava solo aspettando che noi ingaggiassimo lui Non è vero dove metterlo Non è vero dove metterlo Invece E poi chi mi ha assesso E accasso Perchè Perchè Vabbè, quanto male fa... Mi sono tutti, vero? Mi sa che sono al... All'era... ah no, è tornato... Qua... è a... i quei... è qua, è ai cosi È lì dai corvi Era lì dai corvi No, non è lì dai qua Mmm, che strano Ah, è qua... Libertoso... Vessin qua sotto, mi serve una mano Arrivo... È qui dentro E' qua... E' qua... E' qua... E' qua lì per essere assolutamente due E' no... 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 Fa male cosa Eh, fa male... Ma io pensavo ci foste anche voi Ah beh... Parliamone... No... No... Daiii... Ma porco di Dio... Ma porco di Dio... Ma porco di Dio... Ha tirato preciso su dove ero... Ha fatto avanti e indietro in mezzo seconda... Un po' di Dio... Che... Ma... Ma no... Per me non chiederei da me, persino a morire. Punto. Vabbè, mi vuoto. Vabbè, solo... no. Arrivo... No. No. Eh, ovviamente è arrivata fuori la cotta, ovviamente. Se butti una guarda, la metto fuori dal cesspool. No, 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 no. No. Vabbè, vabbè. Maia. Ok Eh, ma questa torre non si difenda neanche con la fantasia Sì, non c'è dolore Mi avete sempre fatto il dolore Eh? Sì Non gli guardavo, gli ho sempre avuto la faccia Guardi un curano Non è vero Se prezi No 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 Oh no, no. Ehi, si è fiddato a Yolo, si è fiddato. Ok, riusciamo a focussare quelli che fanno veramente danno adesso? No, Draven che fa veramente danno, Lesin che fa veramente danno, e quelli che si stanno tirando sulla base che fanno veramente danno quando ha già visto Mannaro. Cos'è un coglione. Ehi, no, 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 no. Ehi, no, no. No, no, no. Oh la Sonya La Sonya Grazie Grazie Sonya Ma come vuoi? Ma neanche in fattore No Ma ci sei solo Vai ad aiutare top Oh Guarda le pezze come implode Stam solo voli Siamo un miserabile ammasso di pixi Non lo riesco 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 Non se aguarde Non lo riesco Quindi 3 Minchir Non lo riesco Non lo riesco Un phi Un оно Siamo senza flash per uccidere Coso, quindi la cosa mi piace molto meno, però si può fare. Un award al baron, perché potrebbe essere la prossima cosa che si fanno. Cerchiamo pushate almeno fino a qui e qui, perché non possiamo fightare, ci entrano i minion in base. Appena chiudo l'infiniti sono contento. Grazie a tutti. Ma non mi hai pulito mai nella vita. Qua le hitbox mi ha preso, le si. Devo depusciare la top. E qui posso farci anch'io a difendere se voi volete sbagliare. Sì, questa non deve venire giù. No. Eh, ora stanno al baron, ne so. No. È uguale. No. 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 Attica. No. 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 Eeeh, vorrei prendere, va bene, sono andato con il infinito Oh, il dragon Oh, il dragon Eeeh La bot lane rischiamo di perdere l'inhibitor Arrivo io I bot si riesco con Sciurro, ma con la lane La bot lane Ma io non so se c'è la corsa No, top, perdiamo No, ragazzi Eeeh, dovrei colare Non arrivo in tempo No 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 Non hanno tank loro Spero no No Io arrivo davvero No 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 Ma di primavera era... Eh, lì però c'è Draven libero Aspetta Ma di primavera, non è vero Non è vero, non è vero Non è vero, non è vero È vero